A Bari alcune fermate dell'AMTAB sono pericolose, pericolose per il traffico, pericolose per i passeggeri. Da anni i responsabili della sicurezza segnalano all'azienda questa situazione, ma finora nessun provvedimento è stato preso. Una di queste fermate è questa qui, siamo a San Giorgio. L'autobus accostando lascia i passeggeri proprio in mezzo alla strada, senza un'isola pedonale, senza strisce per l'attraversamento. La gente deve percorrere un bel pezzo di provinciale a piedi. Vediamone qualcun'altra. In via Piccini la recensione del cantiere attorno al teatro costringe i bus in arrivo a fermarsi al centro della corsia di marcia, creando incolonnamenti e intralcio, senza contare che rende pericolosa sia la salita che la discesa dei passeggeri dal mezzo. Su via della Costituente le auto in sosta a sinistra dell'ingresso e a destra dell'uscita del park and ride rendono difficoltosa la manovra dei bus, intralciando il traffico. Sotto via Quintinosella, in situazioni di forte traffico, l'autobus, dopo aver accostato e aver affettuato la fermata, ha difficoltà a riprendere il senso di marcia per le macchine che sopraggiungono. Questi sono solo alcuni dei punti di manovra e delle fermate pericolose e rilevate. In una lettera protocollata il 1 aprile, i responsabili della sicurezza dell'AMTAB hanno risollevato la questione presso il Comune di Bari e l'Azienda dei Trasporti. Speriamo che non venga presa ulteriormente sotto gamba e questa volta si prendano le opportune soluzioni. Delle altre, le più famose sono quelle lungo la Stratale 16, poi sul lungomare all'incrocio con Viale Imperatore Traiano e il percorso della linea 33 nel quartiere di Palese Macchie.